SABATO 19 DICEMBRE Il scontro sulle banche non potete dire che la Germania ha dato il sangue per l'Europa, ha detto il Premier. Intanto divergenze anche sui migranti e sanzioni a Mosca. Lira di Bruxelles è come Berlusconi. E poi è stata bocciata la sfiducia contro la ministra Boschi che in aula dice se ha sbagliato il mio padre pagherà. Sempre dalla prima pagina della Repubblica l'inchiesta mafia capitale processo ad Alemanno da Buzzi, 125 mila euro di tangenti. E poi la politica, caos Forza Italia, l'ex cavaliere Licenzia, Brunetta, nuova capogruppa sarà la Carfagna. E siamo al giallo di Brescia. Indagati i nipoti e due operai per la scomparsa dell'imprenditore. Questi dunque i principali fatti riportati in primo piano sulla Repubblica. Andiamo subito a vedere come titola stamattina il fatto quotidiano. In primo piano ecco la fiducia alla ministra Boschi. La Boschi si vota l'assoluzione, il PM consulente non tocca il papà. Arezzo i contatti tra la procura, Palazzo Chigi e l'ex sindaco del PD ora al CSM. La ministra il governo sono io, no alla sfiducia. Sempre dalla prima pagina ecco i confini della realtà. Titola stamattina il fatto quotidiano, la tragica media tv delle cene eleganti. Le puntate di un giorno in pretura sul processo escort, la sfilata delle testimoni e la narrazione dei traffici ai piedi del potere del Caimano. Ancora dalla prima pagina domani la Spagna va alle urne con un sistema elettorale simile al nostro Italicum. I pronostici dicono che si rischia l'ingovernabilità. Un altro argomento riportato stamattina in primo piano sul fatto quotidiano riguarda il suicidio assistito. Basta, il male mi divora, vado a morire in Svizzera. La storia di Dominique parto domattina. Il viaggio della provincia di Novara a Berna è la testimonianza a servizio pubblico. Le metastasi sono dappertutto, starei sempre peggio, non sopporterei più la chemio. E io sono contraria al dolore inutile. Ci vuole più coraggio ad affrontare tutta questa sofferenza che non la morte. Finalmente con questa scelta sono serena. Questa è la testimonianza di questa donna malata di tumore. Sempre dalla prima pagina del fatto quotidiano. Altri argomenti. Uno in particolare arriva dalla Puglia e riguarda la xylella. Pesticidi illegali sugli olivi. Dieci gli indagati. E adesso andiamo a vedere i principali fatti che riguardano la nostra regione. Lo facciamo partendo dal quotidiano del Sud che stamattina apre con la notizia di Cronaca. Sesso con ragazzino prete arrestato. La vicenda a Gioia Tauro. Il sacerdote organizzava gli incontri tramite siti e chat con una falsa identità. Sorpresi da un'ato pattuglia della polizia nell'auto in un posto appartato. Dunque incontri con ragazzini organizzati tramite siti e chat. Un altro sacerdote calabrese arrestato con l'accusa di prostituzione minorile. Ancora cronaca da Vibo Valencia. La vicenda del pensionato che adescava minorenni con regali. Anziano finisce in manette. Restiamo a Vibo Valencia. Parliamo di scuole. L'alberghiero non è sicuro. Sospese le lezioni. La provincia deve trovare una sede entro le feste. E poi la pagina della sanità. Pugliese perché Scura è stato fermato. L'integrazione con il Mater Domini va fatta con la regione. Dunque l'integrazione fra ospedale Pugliese e Mater Domini si farà. Ma le condizioni e l'iter devono essere diverse da quelli proposti dal commissario alla sanità Massimo Scura. Ecco perché il ministro della salute ha dato l'alta Scura chiedendogli di rifare tutto. Ancora la pagina della sanità. A neurisma orta cosa si rischia se si ingrossa. E poi una notizia che arriva dalla Cassazione. Annullati gli arresti per De Gaetano, Bilardi e Fedele. Dalla prima pagina è riportato un caso che riguarda l'olio d'oliva. L'eurofrantoio inguaia la Calabria. Olio, l'Europa delle assurdità. Si rischia di non poter più usare la dicitura extravergine. Nuova gradazione per l'acidità. Oliverio e Movimento 5 Stelle mobilitati per trovare una soluzione. E poi l'inchiesta Calabria Verde. Un altro appalto al centro delle indagini. Dunque l'inchiesta si allarga. E adesso stamattina andiamo a vedere come titola il crotonese. Eccoli i principali argomenti. In primo piano reperti di crotone trasferiti a Reggio Calabria. Servono per allestire le nuove vetrine del Museo della Città dello Stretto. E poi l'elezione di Nicola Belcastro, eletto presidente del Parco della Sila. Primo sindaco, in particolare il sindaco di Cotronei, a ricoprire questo ruolo. La cronaca dal piano di Gioia Tauro, sesso con minore preterrestato. E poi sempre dalla prima pagina, a Cutro, il Tar, boccia il migale comune portato al dissesto. Questi dunque i principali argomenti sul crotonese. Adesso prima di andare avanti e sfogliare le pagine interne dei quotidiani, ci fermiamo per la nostra prima rubrica Accadde Oggi. 19 dicembre 1996, muore a Parigi all'età di 72 anni l'attore Marcello Mastroianni. Interprete eclettico in coppia, spesso con Sofia Loren. Mastroianni è il protagonista preferito da Federico Fellini, per il quale interpreta La Dolce Vita nel 1960, e 8 e mezzo nel 1963, colpito da un tumore ai polmoni, realizza negli ultimi mesi di vita una lunga confezione, mi ricordo, sì, mi ricordo, considerato il suo testamento spirituale. La politica in primo piano questa mattina sul Quotidiano del Sud. Rennes si spinge verso il sociale. No a un'Europa a trazione tedesca, con lui anche Hollande, Tsipras e Borisov. Il nostro paese inizia una coraggiosa battaglia in un'unione europea, ma in casa c'è una grana pericolosa. In particolare il Premier contesta la Merkel e la richiesta di sacrifici solo agli altri. E ancora dal Quotidiano la sanità, integrazione, i paletti a scura. Ecco i rilievi del Ministero e della Regione che hanno stoppato il commissario. Oliverio, contrario a tagli lineari, serve un piano industriale, la nuova azienda strategica per abbattere sulla mobilità passiva. E poi da Trebisaccio c'è la sentenza. In particolare è stato depositato il dispositivo di ottemperanza del Consiglio di Stato. È stata depositata ieri la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Dunque in merito all'esito dell'udienza del 3 dicembre scorso per l'ottemperanza della sentenza già emessa ad aprile sul ricorso presentato dal comune di Trebisaccio, in particolare dal sindaco. Da Catanzaro la vicenda di Cronaca. Morire a 40 anni sul lavoro. Destini che si incrociano per due operai deceduti tra Caraffa e Girifalco. Gli incidenti sul lavoro si sono verificati nella tarda mattinata in due zone limitrofe disposta. L'autopsia. Un collega di 25 anni è invece in gravi condizioni. Ancora dal quotidiano del Sud. Il porto delle nebbie degli enti. Eccolo il titolo a tutta pagina. Nemmeno la Corte dei Conti è riuscita a capire cosa è accaduto nel 2014. La relazione dell'organo di controllo Monca-Oliverio. Non siamo stati immobili. Tra sei mesi vedrete i primi risultati. Dice il governatore della Calabria Mario Oliverio. E ancora parliamo dell'olio di oliva calabrese che sarebbe penalizzato dalle ultime decisioni dell'Unione Europea. In particolare andiamo ad approfondire la notizia. L'Unione Europea penalizza l'olio calabrese. I limiti delle norme alla composizione dell'extravergine e ne escludono la qualità carolea. Il Movimento 5 Stelle chiede l'intervento del Governo nazionale ed europeo. Intanto l'Italia recupera assorbimenti all'80%. La Calabria avvicina alla media nazionale. I dati a due settimane dalla fine della programmazione. La Campania e la Sicilia si muovono più lentamente al 70%. Fanalino di coda per il PON Trasporti con il 59%. Le banche che operano al sud sono meno credibili sul territorio. Unità sindacale fra Falcri e Silcea. Dunque si è svolto un incontro che ha parlato proprio di questo argomento relativo alle banche. Ancora da Monasterace la notizia che riguarda Goel. Il giorno della settima ripartenza. Dopo l'ennesima intimidazione riapre oggi. L'azienda agrituristica a Lanterna. Il primo novembre scorso in fumo un capannone e l'unico trattore. Calabria Verde, nuovo blitz della finanza. Un altro appalto nel Mirino. Fiamme gialle dunque in azione. Sempre dalla pagina della Calabria sul Cotieno del Sud. Il caso Matacena. Il legale dichiaro a Rizzo prove non idonee. Rinuncio alla difesa. E poi il caso Rimborsopoli. Annulate le ordinanze di arresto per Fedele, Bilardi e De Gaetano. La decisione è dalla Cassazione. Un marchio per il vino calabrese. Ecco l'evento che si svolgerà in Calabria. Rosso Calabria è il brand celebrato ieri sera alla cittadella regionale. I 54 produttori locali a confronto con le istituzioni per il rilancio del settore. Da Vibo Valencia, criticità strutturali. L'alberghiero chiude tre sedi su quattro. Questo è quanto decisa al termine di un controllo. E poi ancora da Vibo Valencia la cronaca. Rapinano un commerciante. Gli sottraggono anche l'automobile. Tre malviventi in azione. Proprio nelle scorse ore a Vibo Valencia. Da Vibo Valencia ancora la cronaca. Adescati con regali e promesse. L'uomo recidivo era stato notato più volte in compagnia di minorenni. I carabinieri arrestano un presunto pedofilo dopo una delicata indagine. Ieri la conferenza stampa per illustrare i dettagli di questa operazione. Ma vediamo il servizio. Il pedofilo finisce in cella. Antonio Columbro. Il settantottenne di Vibo Valencia è stato fermato questa mattina dai carabinieri. Su di lui pesa di nuovo un'accusa gravissima. Molestie e abusi sessuali su minori. Ragazzini, poco più che adolescenti. A cui l'ex militare della Marina regalava pacchetti di sigarette, ricariche telefoniche, offriva biscotti e cioccolatini piuttosto che un passaggio in auto. Nove le vittime accertate. Due dei minori avevano meno di 14 anni. Ragazzini costretti a subire molestie e atti sessuali. Le indagini partite ad agosto e condotte dai militari della stazione di Pizzo e coordinate dal PM Barbara Bonanno hanno consentito di ricostruire numerosi episodi di cui l'uomo, con alle spalle numerosi precedenti specifici, si sarebbe reso protagonista. Nell'abitazione del pensionato i militari hanno rinvenuto materiale pedopornografico. A firmare nelle scorse ore l'ordinanza di custodia cautelare in carcere il giudice Gabriella Lupoli. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa che si è svolta in procura, alla presenza del procuratore capo Mario Spagnuolo, del comandante provinciale dell'arma Daniele Scardecchia, del comandante della compagnia di Vibo Diego Berlingeri e di quello della stazione di Pizzo Paolo Fiorello. E a margine della conferenza stampa ecco cosa hanno dichiarato il procuratore Mario Spagnuolo, il colonnello dei Carabinieri, Daniele Scardecchia. Una vicenda triste, una vicenda amara perché è l'intimità delle persone che viene poi in gioco. Noi ci siamo mossi in punto di piedi con grandissima riservatezza, gli investigatori sono stati bravissimi nel senso che hanno ricostruito in termini di assoluta precisione e certezza tutto quanto era avvenuto in un arco temporale molto breve e in questo arco temporale in cui si maturava questa consapevolezza di questi fatti particolarmente gravi si è creata una sorta di cordone sanitario intorno a questa persona per impedirgli di fare ulteriormente male. Quindi la collettività, il gruppo sociale del piccolo centro può essere tranquillo, riteniamo di aver risolto il problema. Si tratta di un caso scabroso, un reato odioso che ha visto come vittime anche dei minori ma che ha visto anche come autore una persona che forse ha bisogno di cure. Il pedofilo ha arrestato ieri mattina lo stesso uomo che il nostro Angelo De Luca aveva intercettato qualche settimana fa a Vibo Marina, fermato da un finanziere fuori dal servizio che mise al riparo alcuni ragazzini. Vi riproponiamo quel documento esclusivo. Noto le forze di polizia per porta abusivo d'armi e violazioni delle misure restrittive e di sorveglianza speciale, noto soprattutto per atti sessuali con minori, atti di libidine violenta, corruzione di minorenne, pedopornografia. 78 anni, ex graduato della Marina Militare. Quello che le forze dell'ordine considerano a tutti gli effetti un pedofilo, si cela dietro le miti sembianze di un pensionato. La preda prediletta sono i ragazzini tra i 10 e i 16 anni, adescati comodi diversi e rassicuranti, davanti a scuole e oratori, reiteratamente fermato e identificato dalle forze dell'ordine, che il più delle volte si ritrovano con le mani legate. L'ultima in via Emilia a Vibomarina, ore 19, un finanziere libero dal servizio, affianca la sua auto, costretto a costeggiare, scendono tre ragazzini. Ma benedetti Dio, cosa è successo? Vi ho accompagnato, ho fatto qualcosa di male. Sto dicendo quanto siete abbiamo portato dentro, ora te ne vai, se ti puoi con qualcuno in bacia ti arresto di nuovo, lo tu devi giù. Ma è diabolico, eh? Ma perché? Che ci facevate con quelli in macchina, scusate? Eh, nel passaggio ho accompagnato dalle ragazze, sono amici miei, di posto, di l'ipoparita. Ma hanno 15 anni, che amici vostri sono? Ma hanno 15 anni, non so, del 99, 98. Onestamente, dai, perché fate queste cose? Eh sì, secondo me, ho accompagnato dalle ragazze, la Emilia stavo pensando, ero solo solo, solo in campo di forza, ma ho visto che non sono dalle ragazze, accompagnavo. Sono trovato dalle ragazze loro, non c'entro niente io. Erano con delle ragazze loro, io non sono niente, ero qua, ero solo, non stavo qua. Ma voi eravate pure quello dell'altro giorno a pizzo, però? Quello che si, come bastate, mi hanno fatto una trappola, mi hanno fatto una trappola, scendo, vedi che avevo un amico, mi hanno aggredito, capito? Mi hanno chiesto, vieni e accompagnami là, e mi hanno aggredito, mi hanno accompagnato, e poi mi hanno aggredito. Chi vi ha accompagnato? Ho accompagnato degli amici miei, che dice, accompagnaci da questi qua, questi amici miei, no? E invece c'è una trappola per attirarmi a pizzo cala prima, che mi era tutta una trappola. Io scendevo, dice, cosa mi cerca, portami là, alla villa comune. Mostri, ragazzi, dove l'avete visti? Questi qua adesso, sono di Stefanacoli, hanno le ragazze qui, hai capito? Hanno le ragazze qui. E poi praticamente, fatemi capire, voi l'avete visti? No, accompagnate. E come fate a conoscerli? E li conosco, perché li conoscono, scusa, sono di Stefanacoli. Ah, voi siete di Stefanacoli? Vabbè, quanti anni avete, voi? Io sono più 70. La fuggata ti fai, eh? Ma tu attenti, la testa ti fai. Ancora minorenni, vittime di presunti pedofili, questa è la storia che arriva da Gioia Tauro, sesso con minori, prete in manette, riportato in prima piano stamattina sul Quotidiano del Sud. Gli incontri proibiti e organizzati dal parroco, attraverso siti e chat per omosessuali. Un ragazzo che in volto avrebbe ricevuto 20 euro per una prestazione. E ancora, cambiamo argomento, la clamorosa gaffa della diocesi, preghiamo per il sacerdote marziale, una posizione inaccettabile. Andiamo avanti, ci scendiamo nelle province da Catanzaro, in primo piano questa mattina, il centro storico con l'isola pedonale. La città dice sì, le firme raccolte da 60 commercianti di Corso Mazzini non sono però condivise. Catanzaro nel cuore chiede di estenderla a tutti i giorni. sempre dal Catanzarese, sbocchi occupazionali, mille attività, dunque si parla di lavoro, firmato il protocollo tra il comando militare esercito Calabria e la regione, un'opportunità offerta ai giovani dopo il periodo della ferma. Ancora, da soverato il premio all'eccellenza, al comune il riconoscimento dell'associazione calabresi nel mondo, la consegna nell'ambito di Natale sul posto di lavoro. Dalla mezzia terme, il processo per sé o ricorso del PM contro il politico, l'accusa impugna l'assoluzione di Bevilacqua per la contestata estorsione e anche per la sentenza dell'abbreviato per altri imputati, si andrà in appello. E ancora l'operazione Boomerang. Per tre indagati la Cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza per l'associazione il blitz antidroga, la scattò ad agosto scorso. Da Crotone, la cronaca in primo piano, non ci sono parti civili contro la cosca, grande aracri. L'udienza per 51 inizia con la ricusazione del GUP. Cambiamo provincia, andiamo adesso a vedere a Vibo Valencia quali sono i principali argomenti in primo piano questa mattina. Partiamo dal comune, tesoretto in cassa, ma nessuno lo sa. L'assessorato delle politiche sociali manda in fumo 19 mila euro ignorata l'esistenza. I consiglieri del PD denunciano lo scivolone dell'amministrazione comunale. E poi, dalla provincia di Vibo, in arrivo per i lavoratori una seconda mensilità arretrata. arretrata. La vicenda che riguarda l'istituto alberghiero, per ora niente lezioni, relazione negativa da parte dei vigili del fuoco, sospesa l'attività didattica, il prefetto alla provincia provvedere durante le vacanze ad individuare una sede alternativa per fare svolgere le lezioni agli alunni. Andiamo avanti. Il caso, lo abbiamo detto prima, del pedofilo arrestato a Vibo, Valencia, incubo finito, columbro in carcere. L'indagato faceva ricorso a regali di vario tipo per adescare i minorenni. I carabinieri arrestano il 78enne, già conosciuto per reati specifici. Nel corso della conferenza stampa è stato dichiarato che l'indagato non aveva più freni inibitori. Il magistrato ha parlato di reiterate condotte messe in atto con estrema sfacciataggine. Il procuratore spagnolo spiega dunque i motivi della richiesta del carcere. Sempre dal Vibonese la vicenda che riguarda i rifiuti. Sciopero sosteso, almeno per ora, se entro la prossima settimana non saranno pagati gli stipendi, la protesta riprenderà. Comunicazione inserata dello SLAI venuti incontro alle richieste del sindaco Elio Costa che evidentemente aveva chiesto ai lavoratori di rientrare in servizio per ripulire la città da giorni invasa dal pattume. E adesso da Vibo Valencia siamo a Cosenza. In primo piano parliamo di sanità. La mia odissea al pronto soccorso. Eccolo il virgolettato. Una lettrice racconta di essere stata lasciata nuda e senza coperte su una barella. la direzione generale ha deciso di avviare un'inchiesta interna per fare luce su questa vicenda. Dal Tirreno siamo a Belvedere in particolare. Il Consiglio riflette sull'omicidio. Non hanno nessun dubbio i politici. Vittima della tragedia è Silvana Rodriguez. Un netto no alla violenza. Organizzata intanto una fiaccolata per il 21 dicembre prossimo. Ancora dal Cosentino da Rossano Antoniotti si batte per la sanità. L'ex primo cittadino insiste in città polo chirurgico e reparto di ostetricia sulla riorganizzazione dello SPOC con Corigliano. Bisogna vigilare. Da Cosenza a Reggio Calabria riesame bis per i tre politici. Dunque parliamo dell'operazione Rimborsopoli Fedele, De Gaetane, Bilardi regge comunque l'impianto accusatorio. La Cassazione annulla con rinvio le ordinanze. Intanto oggi la premiazione del concorso come si racconta la legalità l'appuntamento è a Reggio Calabria. E sempre dal Regino iniziative in vista del Capodanno in mare eccolo Capodanno in mare confermato non ci sarà solo il classico tuffo ma anche altre iniziative spettacolari il presidente Demetrio Delfino presenta il programma festivo intanto sempre per quanto riguarda queste festività due giorni per dare una mano alle campagne della Teleton appuntamento sul corso Garibaldi in vista dell'annuale appuntamento di solidarietà Teleton per raccogliere fondi per la ricerca scientifica e ancora dalla Tirrenica città metropolitana è costituente il virgolettato a tutta pagina Falcomatà indica i punti di partenza Porto di Gioia Tauro agricoltura e sanità il sindaco di Reggio ha confronto con i colleghi della provincia tirrenica dalla grecanica sindaco minoranza botti di Natale eccolo il titolo i lavoratori ASED consegnano una lettera Meduri rifiuti siamo nel tunnel i gruppi di opposizione abbandonano la seduta del consiglio comunale poi una segnalazione riportata attraverso le pagine del quotidiano del sud troppe perdite idriche per le vie di Lazzaro l'acqua destinata al consumo umano sgorga dal mantù stradale ora basta i funzionali pubblici paghino per i danni alla collettività dalla Locride a Lanterna controlli intensificati dunque oggi l'azienda riaprirà i battenti dopo aver subito una serie di attentati la risposta del Ministero degli Interni all'interrogazione di Rea Lacci il Ministro dell'Interno dunque ha risposto ad una delle mie molteplici interrogazioni sui gravi attentati subiti negli ultimi sei anni dall'agriturismo biologico a Lanterna di Monasterace Marina struttura che fa parte di Goel Bio la cooperativa delle aziende agricole anti-indrangheta del gruppo Goel e adesso siamo alla piana di Gioia Tauro da Rosarno niente contratto dormono a terra senza acqua luce servizi igienici medici per i diritti umani sugli stagionali stranieri dunque adesso come ogni mattina ci colleghiamo con il nostro meteorologo l'ingegnere Ugo Notaro andiamo a vedere le previsioni del tempo poi una breve pausa pubblicitaria e ritorniamo subito dopo io vi aspetto amici una giornata di sabato caratterizzata neanche a dirlo da questo anticiclone subtropicale che addirittura si estende fino all'Inghilterra guardate è una situazione davvero anomala per il mese di dicembre addirittura quello delle azzorre sulla sinistra dello schermo tende a dare supporto al sub tropicale questo darà una condizione di stabilità meteorologica che purtroppo è destinata a rimanere per tutta la nostra penisola fino alla fine dell'anno è una situazione malinconica e triste per chi come tanti diciamo anche ama lo sport invernale vedere le Alpi completamente prive di neve ma anche nel nostro altopiano silano in assenza totale di segnali di presenza la Dama Bianca diciamo fa davvero riflettere domina l'anticiclone sub tropicale la scena sul Mediterraneo centro occidentale è l'area più fredda destinata a permanere sulla penisola balcanica tutto ciò ha come diciamo causa il vortice polare assai saldo nella sua posizione in corrispondenza del Polo Nord che non lascia discendere quelle diciamo colate di aria fredda che interessavano le stagioni invernali trascorse che erano fautrici di neve sia sulle Alpi che sull'Apenino meridionale tante volte la fine di dicembre è stata accompagnata all'arrivo della neve sulle montagne di Camigliatello sulle sede sulla Sina ma quest'anno non ci sono segnali in tal senso passando a uno sguardo d'insieme sulla nostra penisola possiamo dire che ci saranno formazioni moniforne più accentuate a ridosso delle Alpi occidentali dell'Apenino Liguri in un contesto comunque che vede assenza di fenomeni significativi se non il problema della scarsa visibilità che permane sull'Italia sedentrionale e in particolare su tutta il catino della pianura badana quindi dalla Lombardia fino al settore Adriatico tutto ciò è destinato a non avere cambiamenti se non quelli legati a piccole variazioni ma in assenza di fenomeni stesso discorso per l'Italia centrale che vede formazioni cumuliformi a ridosso della catena appenninica nelle ore centrali della giornata in un contesto che permane più di stampo primaverile che di stampo invernale Meridioni d'Italia con una giornata di sabato che vede annuvolamenti di tipo cumuliformi a tratti più marcati a ridosso dell'Apenino meridionale a ridosso del Polino a ridosso della Sila in un contesto che comunque non vede alcun tipo di precipitazione tanto meno di quelle nevose e direi una giornata che vedrà ceriche da nuvolosi tenteranno a diventare coperti nelle ore centrali e la giornata con apertura e poi nell'ultima parte di giornata che diventeranno dominanti nel corso della giornata successiva domenicale che sarà una giornata che vedrà i valori termici prossimi superiore ai 15 gradi prossimi 17-18 gradi per quanto riguarda la giornata domenicale sul Regino e su tutto il settore costiero di Renico e Ioni che in un contesto che quindi assomiglierà più di carattere primaverile ma non certamente quello di un periodo che introduce ormai a breve alla stagione invernale l'inverno rimarrà solo sul calendario non sono previsti precipitazioni quindi tantomeno la neve né sulla sila né sul pollino da qui a una situazione di medio termine e quindi in un contesto che non ha il carattere dell'inverno e lo stesso è ricordato soltanto dalle pagine del calendario direi che per oggi è tutto un saluto di Bonotaro per gli amici di la Cine visita il sito www.lacinews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia dal lunedì 26 ottobre l'edizione pomeriggio della Cinews 24 va in onda alle 16 e 30 i calabresi sono informati di tozy lo Напрice di tozy da un saluto Grazie.